Salve a tutti ragazzi, questo è qui qui vi parlo e benvenuto in un altro episodio di Pokemon Omega Ruby Alfa Sapphire in collaborazione con Pokemon.net e Federic95ita Oggi si comincerà con le Megapietre Megapietre in ordine alfabetico In ordine alfabetico ho contato che ci sono ben 46 Megapietre in tutta la regione di Owen Alcune le abbiamo prese, già, sì, però vi spiegherò comunque come riprendere nel caso ve le foste perse Cosa che io vi mostrerò comunque anche se le ho già prese E... niente, cominceremo, come ho detto, in ordine alfabetico a prendere tutte queste Megapietre Andando in ordine alfabetico, la prima pietra che potremmo prendere è la Bomasnowheater Quindi dobbiamo dirigerci qui nel percorso 123 e atterrare Ve lo faccio vedere tramite, ovviamente, volo Cioè, tramite ipervolo per farvi capire qual è la zona giusta Ora, eccoci qua Percorso 123 Dirigiamoci qui a destra Dove c'è la casa di Bacco Bacchini Dovremmo salire qui dentro Attenzione, alcune Megapietre Ecco, questa è una piccola premessa Alcune Megapietre Si trovano già all'inizio del gioco Altre si trovano solamente una volta che abbiamo ottenuto il Dex nazionale Altre ancora Si troveranno solamente quando avremo finito l'episodio Delta Dopo la pioggia di Elite Lady Quindi, nel dubbio, potete andarla a prendere dopo aver finito tutto Infatti questa Bomasnowheater la troveremo in un punto molto vicino Che è qua Ed eccola qui Clicchiamo E abbiamo ottenuto la Bomasnowheater Quindi ragazzi Questo era il primo episodio delle Megapietre Spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e commento in descrizione Continuerò questa serie finché non le troverò tutte Un saluto a Teo Arrivederci alla prossima Ciao ciao